Ok? Ok, e chiudi. Mi raccomando, chiudi, eh. Dimmi quando però fai. Sono arrivate. Chiudi, 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 chiudi. Chiudi, 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 chiudi. Schifo la sua. Chiudi, chiudi. Ma l'ho picchiato. No, non mi viene lei picchiata, non ci posso. Non portarle fuori, non portarle fuori. Non portarle fuori, eh. Sanno tutto da me, aiuta. Senti, ma è chiuso adesso. Sab, non pungete Alex, eh. Non pungete Alex. Sab, per favore. Alex, non farti. Alex, tutto ok? Alex, torna tutto gonfio. Non è ok. Bubbonoso. Non arrivi a chiudermi. Ma sei dentro o fuori, tu? Io muoio, sto dentro. Le api sono chiuse. Ma quanto costava chiudere tutto prima che arrivassero le api? In teoria potevi anche darmi le coordinate, però ho preferito fare così. Ma ho chiuso, ma ho fatto le api. Vabbè, senti, arrangiati, ok? Dobbiamo seguire la sua percosa. Adesso me ne vado.